salve a tutte e tutti voi care amiche ed amici che mi seguite in youtube dopo tanto tempo ho l'onore di fare un nuovo tutorial di gastronomia casareccia che lo dedico al mio amico nimmo corcione il titolo del video di oggi sarà fanati il petto di pollo con insalatina con la tuga e cipolla insalata di latura e cipolla e poi con mezzo di questo farina che mia madre fa una specie di pane per sfruttare il pane cioè farina e per per sfruttare il pane grattugiato che gli rimane l'uovo a queste specie di panino frito bene passiamo adesso a vedere quello che è oggetto del tutorial gastronomico di gastronomia casareccia di oggi innanzitutto berrò accompagnerò le pietanze di oggi con dell'acqua e limone perché acqua e limone perché fa digerire certo perché è buono anche ma per non buttarlo via dopo averlo messo nella panata di pollo un dito di vino come vedete la coppa e generosa ma è tirichiamente servita perché io mai eccedo sono molto morigerato quindi appena un dito di rosso di vino rosso d'altro canto qualche ci abbiamo abbiamo già servito l'insalata di lattuga e cipolla non vi faccio vedere il processo col quale si prepara l'insalata di lattuga e cipolla perché tanto la sapete sciacquare e tagliare pure voi è inutile che ve lo spieghi e qua ci abbiamo la pietanza già impiattata adesso io devo appoggiare un po il cellulare perché oggi non l'ho messo sul fiasco quindi questo c'è il vantaggio che potrete vedere tutto da vicino lo svantaggio che quando devo usare due mani non posso filmare ecco ho tagliato per tutti voi un bel pezzo di panata fatta col petto di pollo e quindi andiamo a degustarci questa prelibatezza una rossa sembra sembra proprio pollo sembra pollo avete presente pollo poi mangio questo per non buttare la farina quando avete panato qualcosa soprattutto con uovo fate dei bozzi e gli continuate a friggere nell'olio della frittura quindi riesce come una specie di pane come si sente come le hamburghese di soglia soltanto che non hamburghese di grano di grano perché fatto con farina cioè no con pane grattugiato si sente proprio come se fosse del pane quindi se voi fate tante panate ma calcolate sproporzionalmente 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 la quantità di pane grattugiato non lo dovete buttare via fate dei bozzi mi friggete e le del pane non si butta via niente soli tablet che non funzionano si devono buttare gli amma gli amma mangiamocela ecco insalata infatti questo tutorial si chiamerà come cenare con petto di pollo panato ed insalata la tuga cipolla e io vi sto facendo vedere proprio come farlo come cenare con questa pietanza alla vostra salute la tuga cipolla poi l'insalata alla condimento olio e limone e più delicata adesso vi farò vedere un accorgimento speciale questo che vi sto per fare vedere è una cosa da avere intenditori dopo previo inforchettamento della lattuga e cipolla dell'insalata passiamo a inforchettare pure il pello di il petto di pollo non il pelo semmai la piuma vabbè passiamo inforchettare pure il petto di pollo panato che ho previamente tagliato per poterlo filmare con l'altra mano ecco capito due in uno alla vostra una cosa un'esplosione di sapori veramente una cosa unica solo manca fonderci l'aroma di un buon vino quindi alla vostra salute cg beh io continuerei a farvi vedere come cenare con petto di pollo panato e insalata di lattuga e cipolle ma vuoi perché voglio mangiare guardando la tele con calma vuoi perché il video dovrebbe troppo sarebbe difficile nel tarpo e da pubblicarlo in poco tempo vuoi perché vuoi a guardare un video in 30 minuti come ne ho fatti nel passato di gastronomia cazzareccia magari ecco avete altro da vedere io mi comiato da voi un buon bicchiere d'acqua minerale liscia senza gas con limone spremuto dentro cioè il domone non l'ho spremuto nel bicchiere ma sul pollo poi l'ho messo con l'acqua quindi un altro a ricincini a tutti e tutti voi alla vostra salute state ne accorti ciao una sete pazzesca ma la sua sconata tutta la sua sconata tutta e allora vediamo perché può darsi che riprende a fare video tutorial di gastronomia cazzareccia sempre il grande nimo corcione continua ad ispirarmi quindi dopo tanto tempo il vostro c'è sante già ritorna alla carica allora grazie a tutte e tutti voi amiche ed amici di youtube di cocle plus di facebook di twitter di instagram di quello che sia di seguirmi mettete mi piace al video se vi è piaciuto commentatelo ed iscrivetevi al canale io sono disoccupato magari youtube mi paga arrivederci ciao 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 ciao